Il centro di riabilitazione teri di Cava dei Tirreni è da oltre 30 anni sul territorio. La vita a Cava dei Tirreni, come nel resto del mondo, procede sempre con lo sguardo rivolto in questa delicata fase all'epidemia da Covid-19, che continua a correre sulla spinta della quarta ondata. L'aggiornamento giunto nella giornata di ieri, per ciò che concerne la città metelliana, ha fatto registrare 2.622 persone attualmente positive al virus, di cui 4 stanno gestendo la malattia in ricovero ospedaliero. I nuovi guariti sono invece 483, mentre il numero dei deceduti dall'inizio dell'emergenza è pari a 53. Intanto, ampliando lo sguardo alla situazione regionale, il coordinamento degli ordini dei medici e degli odontoiatri della Campania, presieduto dal presidente dell'Ordine di Salerno, Giovanni D'Angelo, si è riunito via web in seduta straordinaria, in considerazione del notevole aumento di casi di contagio e delle ultime decisioni assunte dalla regione Campania, esprimendo preoccupazione sulla tenuta del sistema sanitario regionale, che rischia di essere travolto dal numero di contagi di queste settimane. Dopo due anni di pressione, si legge in un comunicato diramato nella giornata di martedì 18 gennaio, i medici sono allo stremo. Nel testo, inoltre, viene focalizzata l'attenzione anche sulla sospensione temporanea delle attività di elezioni e di specialistica ambulatoriale, dichiarata dalla regione. I chiarimenti inviati a tal proposito, prosegue il comunicato, complicano ulteriormente il quadro, scaricando sui medici la responsabilità di discriminare, sull'urgenza o meno, della prestazione da erogare, senza chiarire da quale medico e in quale setting assistenziale tale decisione debba essere assunta. Per il coordinamento regionale dei medici e degli odontoiatri, che ha inteso ribadire al governatore De Luca la piena disponibilità a una più fattiva collaborazione anche attraverso un momento di ascolto, queste disposizioni di fatto portano a negare a un'ampia fetta di persone il diritto alla tutela della salute.